Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale con un nuovo video oggi un'idea per una pasta vegetariana tra l'altro ricca di verdure e leggera semplicissima ma gustosissima ragazzi venite a vedere e 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 ditemi nei commenti quello che ne pensate e poi siamo quasi pronti e 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 sono un fan della pasta delle mezze maniche in questa maniera o calamarata insomma con questo formato di pasta qui con pomodorini porro olive taggiasche un tocco di basilico e per me è la fine del mondo ragazzi grazie per aver visto il video ci vediamo alla prossima